L'impegno di Estra con Mosaico e Verde è iniziato due anni fa, è un impegno tipo triennale, ci siamo impegnati a piantumare 9.000 alberi, 3.000 all'anno, nei nostri territori di vocazione. Noi siamo un'azienda che vende gas ed energia elettrica e operiamo nel centro Italia, soprattutto in Toscana e nelle Marche. Abbiamo già fatto attività in questi due anni, abbiamo piantumato circa 6.000 alberi in queste regioni, in questi territori. Abbiamo avuto molti benefici da questo perché abbiamo in parallelo iniziato a commercializzare prodotti green, energia elettrica e gas, e abbiamo coinvolto gran parte dei nostri clienti. Tre quarti dei nostri clienti ad oggi utilizzano gas verde. Gli abbiamo resi consapevoli in maniera concreta di quello che stavano facendo e dei benefici che potevano avere scegliendo i nostri prodotti e i nostri servizi.